Buonasera, mi chiamo Momo, sono tunisino, vengo dall'Italia, ho scelto la Turchia come posto per fare il trappianto dei capelli, ho scelto come clinica clinic expert, mi trovo benissimo, appena sono arrivato dall'aeroporto di Istanbul mi hanno preso, mi hanno portato direttamente a fare il primo controllo che è stato domenica, poi ieri mi hanno fatto il trappianto dei capelli, mi sono trovato bene, avevo un po' di dolore però mi è passato, adesso c'è un po' di gonfiore, però spero che mi passa da domani dopo domani, comunque mi trovo bene e consiglio clinic expert a tutti quelli che vogliono fare il trappianto di Turchia.